In questa scatola oggi c'è la mia felicità. La scatola l'ha realizzata l'amica Sonia, con tanto di nome. E dentro? E dentro un veggio falareggio di Maria Pia, con tanto di logo. Il green builder l'ha realizzato la mia amica Antonina. Troppo bello, mamma mia, troppo bello. Ragazzi, la felicità sta anche nelle piccole cose e per me la cucina è molto importante. Mi metto subito all'opera. Come mi sta? È troppo bello. Grazie Antonina e grazie Sonia. Ciao!